Buongiorno, allora io vedo i politici che stanno cavalcando l'onda Meloni, Salvino e tutto il centro-destra che poi non sono nient'altro che dei commedianti per dividere il popolo e per far sì che le cose rimangano che le cose rimangano come sono sempre state e che ci sia sempre il solito che dirige e che sfrutta cittadini perché questi dirigono per sfruttare cittadini e non vedo altra visione disponibile possibile, questi governano male hanno distrutto tutto, tutto hanno distrutto, la musica, hanno distrutto l'arte, hanno distrutto e poi con questo coronavirus c'è poca chiarezza, allora il virus è, c'è, quindi dobbiamo rimanere a casa se, poi ci vuole parere degli esperti, ci vogliono gli scienziati che dicano non i politici perché i politici non sono specialisti, si devono avvalere del parere degli scienziati, diversi scienziati perché certi sono finanziati dalle lobby farmaceutiche, gli altri che non sono finanziati dalle lobby farmaceutiche che non hanno voce in capitolo, alcuni di loro vengono denunciati perché dicono falsità e ad alcuni di loro sono stati cancellati i filmati sui social network che sono di proprietà dei proprietari delle case farmaceutiche perché questo è quanto l'unica cosa che può fare un Presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica in uno stato di eccezione come questo, intanto non capisco come l'Europa stia facendo pressione sull'Italia in un momento così delicato e di emergenza, falso o vero che sia quindi dovrebbe chiudersi tutto, anche l'Europa, e non dovrebbe esserci nessuna trattativa e nessun argomento perché la cosa più importante è la vita dei 500 milioni di cittadini europei l'unica cosa che deve fare lo Stato se non lo fa quella schifo di falsari della BCE perché di questo si tratta, sono dei falsari quelli della BCE, stampano moneta senza contropartita ma non la ritirano neppure quando c'è perché come funziona la moneta? lo Stato stampa moneta, man mano che la moneta rientra con i soldi delle tasse per me imposta sul valore aggiunto perché non voglio nessuna tassa oltretutto è incostituzionale la tassa quindi stavo dicendo che l'unica cosa che lo Stato, cioè il Presidente del Consiglio che è il capo della politica rappresentativa che deve essere eliminata perché è una spesa superflua la burocrazia risale all'imperatore Claudio andate a vedere quando c'era l'imperatore Claudio ecco, la politica non serve a nulla, non serve a niente e lo sta dimostrando ancora oggi sì perché lì stanno e stiamo agendo in regime comunitario ma qual è il regime comunitario? qui la gente muore o di fame o di coronavirus o di polmonite perché tanti muoiono anche di altre patologie però a quanto pare tutti i morti sono di coronavirus l'unica cosa, chiudo, che deve fare lo Stato in questo momento è stampare soldi se non lo fa quella merda della BCE, quello schifo di banca centrale di ladri perché sono state scippate le banche pubbliche degli Stati e la magistratura non ha fatto un cazzo l'unica cosa che deve fare, finalmente lo dico in questo momento il governo è stampare soldi e dare soldi alle persone di modo che le persone possano avere il minimo indispensabile fino ad allarme rientrato facendo dei piani per il futuro perché non ci può essere un futuro che per un'influenza si blocca nuovamente tutto il mondo questa storia deve finire e non c'è nessun vaccino contro l'influenza per cui fatela finita stampate moneta in questo momento se la BCE del cazzo, quell'istituto di ladri non stampa soldi e li dà gratuitamente agli Stati perché questo è il compito della banca centrale deve stampare soldi e darli gratuitamente agli Stati perché questo è causa di forza maggiore se è vero che esiste il virus ma siccome le direttive le hanno date loro presumibilmente è vero che esiste questo virus contagioso minaccia per tutti i cittadini i bisognosi, subito